Eccoci qua a vedere lo shop del 9 giugno, molto velocemente, allora skin simpaticissima, aspetta, eccolo qua, Gwersney, come cavolo si legge troppo bello, dal pigiama muccoso, ma quanto simpatico è il pigiama muccoso, al posto delle bombe a mano alle granate, logicamente cartone del latte, minchia la mazza, la mucca mazza, bellissima, è un peluche perché la testa si è scucita ed è uscito il riempimento, il cotone, poi che abbiamo morta fiamma, che è anche un NPC se non sbaglio, con col suo piccone, complex, 1200, carina dai, un po' colorata, vabbè ma ci sta, bello, un collage di insigne, questo, e la sua copertura coloratissima, logicamente, scendiamo, uomo segnato, che figata che si riempie così, la sua ascia graffitascia, sembra milanese, ecco qua, e vabbè tutta nera, anche, logicamente, la copertura, macaco, grosso a banana, anche questo lo conosciamo, fionda, una delle schiene abbastanza basilari, meno costose, però, secondo me, molte volte sono più carine delle altre, balletti, questo lo conosciamo, il canto marinaresco, bellissimo, e anche questo è simpaticissimo, dai, fa ridere, con certe skin, poi è proprio simpatico, minchia, arrutto, però è troppo bello, tac, anche questo è troppo simpatico, vabbè, il resto, dai, conosciamo tutto, è inutile stare a perdere tempo, ok, ditemi se vi piace il video fatto così, ultra velocemente, quello dello shop, senza dare troppe spiegazioni, o se vi piace quello più dettagliato, ciao ciao ragazzi!